Ciao a tutti amici di Diffici di Paglitalia, abbiamo appena posato lo strato di impremiabilizzazione, abbiamo messo un tessuto in un tessuto e un telo in nylon ed ora andremo a mettere qui sopra il magrone come cappa di protezione per poi poter gettare le fondazioni in cemento che mi possono contenere e la spinta di questa terra che è una gilla che porta tutta l'acqua che arrivano dai campi che sono qui prima della casa. Ecco, ciò è fondamentale quando si fa una casa ad altre prestazioni anche riuscire a confinare in modo adeguato l'acqua in modo che non possa entrare dal pavimento della casa oppure dai muri che poi vanno a formare l'interrato. Ciao a tutti da Nicola Pretti e ti ricordo che la mia casa è edificiidipaglitalia.com